Ciao a tutti, il motivo che andremo a vedere oggi è questo motivo a forma di albero che io ho utilizzato per fare la manica di un cardigan. Questo motivo è formato da 6 maglie più 4 di vivagno per formare appunto i bordi e si forma in 18 ferri in altezza. Sul davanti si presenta appunto in questo modo mentre sul dietro è così. I ferri di ritorno o ferri pari vengono lavorati come si presentano le maglie. Andiamo a vedere come si procede. Allora primo ferro montato sul ferro appunto 6 maglie più 4 di vivagno. Allora lavoro il mio vivagno e sono un diritto, due rovesci, uno e due, un diritto e due rovesci, uno e due. Chiudo il ferro con il mio vivagno. Il secondo ferro andranno lavorate le maglie come si presentano, quindi andremo a fare due diritti. Allora questo è il mio vivagno e andremo a fare due diritti, uno e due, un rovescio, due diritti e un rovescio. E ovviamente il mio vivagno che va a chiudere il ferro. Il terzo ferro. Allora il terzo ferro vado a fare il mio vivagno, un diritto, due rovesci, uno e due. E questa maglia praticamente dovrò andarla a moltiplicare, nel senso da questa maglia dovrò far uscire cinque maglie, quindi vado a fare un diritto senza buttare giù la maglia, un rovescio, quindi vado a lavorarla a rovescio, un diritto, un rovescio e un diritto. Ok? Quindi sono uno, due, tre, quattro e cinque. Chiudo con due rovesci, uno e due. E il mio vivagno. Il quarto ferro, come si presentano le maglie, quindi andrò a fare nove diritti, un rovescio. Ci vediamo al quinto. Il quinto ferro vado a fare il mio vivagno, un diritto e nove rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. E chiudo il ferro con il mio vivagno. Il sesto ferro, come si presentano le maglie, quindi andremo a fare nove diritti e un rovescio. Ci vediamo al settimo. Settimo ferro. Vado a fare il mio vivagno, un diritto, nove rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Chiudo il ferro con il mio vivagno. L'ottavo ferro, come si presentano le maglie, quindi andrò a fare nove diritti e un rovescio. Ci vediamo al nono ferro. Allora, il nono ferro. Andiamo a fare il mio vivagno, un diritto, due rovesci, uno e due. Adesso prendo cinque maglie e le lavoro insieme a rovescio. Quindi, due, quattro, cinque. Adesso, non so se si vedrà nella telecamera, perché è un po' complicato prenderle tutte insieme. Dunque, sono un po' strette. Allargandole, due, tre, quattro e cinque. E le prendo a rovescio in questo modo. Vado a finire il ferro con due rovesci. Quindi, uno e due. E chiudo con il mio vivagno. Ok. In questo modo. Allora, diciamo che in questo caso abbiamo fatto il nostro primo alberello. Ok. Adesso proseguiamo per fare il secondo. Il decimo ferro, appunto, come si presentano le maglie. Ci vediamo all'undicesimo ferro. Allora, undicesimo ferro. Vado a fare il mio vivagno. E adesso, da questa maglia, vado a creare altre cinque maglie. quindi, vado a fare un diritto senza buttar giù la maglia, un rovescio, un diritto, un rovescio, e un diritto. E ho creato cinque maglie. Sono una, due, tre, quattro e cinque. Proseguo con due rovesci, un diritto, e due rovesci. Uno, e due. e chiudo il ferro col mio vivagno. Il dodicesimo ferro, come si presentano le maglie, quindi andrò a fare due diritti, un rovescio, e sette diritti. Ci vediamo al tredicesimo. Tredicesimo ferro, il mio vivagno, sette rovesci, quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette. Un diritto, due rovesci, uno, e due. Chiudo il ferro col mio vivagno. Il quattordicesimo ferro, come si presentano le maglie, andremo a fare due diritti, un rovescio, e sette diritti. Ci vediamo al quindicesimo ferro. Quindicesimo ferro, andrò a fare un vivagno, cioè il mio vivagno, sette rovesci, quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette. Un diritto, e due rovesci, uno, e due. Chiudo il ferro col mio vivagno. Il sedicesimo ferro, come si presentano le maglie, andrò a fare due diritti, un rovescio, e sette diritti. Ci vediamo al diciassettesimo ferro. Allora, diciassettesimo ferro, vado a fare il mio vivagno, dopodiché, andrò a fare cinque rovesci insieme, quindi, cinque maglie insieme a rovescio, tre, quattro, e cinque. Vediamo se riusciamo, al primo colpo. Quindi, uno, due, tre, quattro, e cinque. a rovescio. No, mi è scivolata, uno, due, tre, quattro, cinque. Riproviamo che siamo più fortunati, eh. niente, ho detto che, aspettate, allora, riproviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta dopo vari tentativi, poi, continuo con due rovesci, quindi, uno, e due, quindi, cinque maglie a rovescio insieme, due rovesci, un diritto, e due rovesci, uno, e due, e chiudo il ferro col mio vivagno. Il diciottesimo ferro, come si presentano le maglie, quindi andrò a fare due diritti, un rovescio, due diritti, e un rovescio. Allora, il risultato finale è questo. Abbiamo un albero che va verso il basso e un albero che va verso l'alto. Ovviamente, ripetuti e, tra le altre cose, moltiplicati, ne viene fuori questo effetto. È molto voluminoso, ovviamente, perché è in 3D. Il motivo scritto lo trovate anche sotto il video. Il video è terminato. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao!